La politica non li interessa, l'unica vera loro preoccupazione è il lavoro. Sono i rappresentanti dei lavoratori del comparto cemento a Gubbio che all'indomani della nota dei LED, gruppo di maggioranza del Consiglio Comunale o Gubbino, ribattono su alcuni punti. Il primo, quello di una strumentalizzazione politica della manifestazione stessa, messa in atto dal PD. Si intuisce che possano pensare che dietro alla nostra manifestazione c'era qualche partito politico e invece smentiamo assolutamente e categoricamente perché la manifestazione viene dalla pancia degli dipendenti, perché abbiamo paura del nostro posto di lavoro, di perdere il nostro posto di lavoro. Non ci interessano schermaglie o giochetti politici. A noi, come abbiamo riportato sulla nostra locandina della manifestazione, ci interessa responsabilizzare e sensibilizzare l'opinione pubblica. Non c'è chiusura da parte dei lavoratori a proposte che possano arrivare dal mondo della politica, a patto che siano chiare, scritte, fattibili nei costi e nei tempi. Nel merito i LED con la nuova coordinatrice Maria Rita Rogari indicano l'idrogeno come fonte alternativa, mentre dicono di non essere appassionati all'idea di Gubbio come città dove si smaltisce CSS. Sottolineano come il tema della decarbonizzazione e della transizione ecologica rappresenti una sfida su scala globale che va messa in positivo da tutti gli attori in campo e non va vissuta come un fastidio. Vogliamo, afferma la coordinatrice, evitare che tutto si riconduca all'uso del CSS perché il quadro generale rimane allarmante anche al di là di questo. Nessun dettaglio però al momento sul progetto tecnico e specifico per Gubbio che è quello che invece vogliono sapere in concreto i lavoratori quando leggono la nota dei LED in cui viene chiesta una transizione ecologica che consenta di trasformare anche le fonti di produzione energetica del territorio Gubbino. Questa è cosa che crediamo che vogliamo tutti, l'intera popolazione, le aziende stesse, i lavoratori stessi però non possono essere parole. Ci devono dire con chiarezza quali sono le fonti di energia rinnovabili in questo momento se è l'idrogeno, se sono i pannelli solari, se è l'eolico perché detta così e scritta così sembra che loro hanno in mano la possibilità di andare con queste energie rinnovabili ma credo che in questo momento è una strada impraticabile quindi preparassero un piano fattibile da presentare e poi tutti insieme valuteremo la strada. Il tempo non è galantuomo e passa drammaticamente mentre a Gubbio si discute. Con i forni di Ghigiano chiusi il lavoro è calato in modo importante anche per tutto il mercato dell'indotto. Gli autotrasportatori in primis che oggi si trovano a lavorare a Rassina in Toscana o Caravate nel Vare Sotto ma non più a Gubbio. Questo comporta di stare fuori tutte le settimane, due, tre, quattro giorni ogni settimana quindi non si lavora più su Gubbio, non si carica più a Gubbio ma si carica su altri siti. A questo punto mi faccio delle domande, non riesco a capire una cosa il perché le altre cementerie sulle altre regioni non hanno nessun tipo di problema che hanno dotato il sistema CSS, vanno avanti, producono tutto l'anno senza nessun tipo di problema. Ci ritroviamo che ci viene a mancare il lavoro proprio a casa nostra. Non riusciamo proprio a condividere questa situazione, non riusciamo a capire il perché non prende una via di sblocco definitiva. Noi vogliamo vivere a Gubbio, non sopravvivere. La popolazione deve sapere che il primo comitato no CSS lo trova lì dentro. Noi siamo tutti Gubbini, tutti con famiglie che abitano qui, figli, nipoti. Quindi non è che trovano una porta aperta, basta chiederlo. Come ho sempre detto al sindaco, a noi ci ha mai interpellato. Sulle preoccupazioni dei lavoratori, Maria Rita Rogari ricorda che l'amministrazione già da tempo in campo, insieme e a fianco delle aziende, per stabilire un protocollo di impegni seri finalizzato a garantire una serena convivenza del lavoro con la necessaria e indispensabile tutela di salute ed ambiente, dicendosi rammaricata per il fatto che questo lavoro non sia stato percepito. La situazione potrà risolversi e il clima rasserenarsi, afferma, solo se ci sarà il concreto e reale impegno da parte di tutti gli attori sul campo. Il movimento, dice, sarà vigile rispetto all'operato di ognuno e informerà la città su ciò che con serietà e impegno si sta portando avanti. Proprio però sull'informazione non corretta, gli operai intervengono rigettando l'affermazione dei LED che si dicono contrari a far sì che a Gubbio si chiuda il ciclo dei rifiuti. Nessuno, dicono, ha intenzione di farlo. Questo credo che è un insulto per imbrogliare i cittadini perché le aziende non hanno chiesto di utilizzare i rifiuti. Il CSS è un'altra questione. Quindi anche sull'informazione, come l'abbiamo già detto in altra occasione, bisogna essere chiari tutti.